Una brevissima apparizione Ma io sono contento di essere entrato, sono contento soprattutto per la squadra che ha questi tre punti Vengo da un periodo in cui sono stato fermo, quindi è normale che la condizione fisica la sto chiedendo piano Io mi alleno sempre al massimo e quando il mister è il mio, in causa chiedo il mio supporto E' quella la posizione che prediligi in campo? Sì, io mi piace giocare davanti alla ripresa a tre o al centro campo Ma ripeto, dove posso servire alla squadra a giocare, io proprio al centro campo Potrai dare sicuramente una mano a questa squadra che è ormai in sette giornate della fine Insomma è in piena lotta per i periodi Ma io spero, perché l'obiettivo è giocare domenica per domenica E dimostrare domenica per domenica per puntare al nostro obiettivo Cosa ti manca ancora per raggiungere la forma finale? Ovviamente giocare, però piano piano non voglio dare nessuna attenzione al mister Io mi alleno e poi deciderò lui Stai alleno sempre a passi E poi ho preso a mano Qualche domanda Giovanni? Visto che lui viene dall'Ajus Non parliamo di lui E' bene Ma gli va bene Ti rendi soltanto come un sostituto di Massimo o puoi giocare anche... Ma questo non devo deciderlo io Non sono io che lo dice Io mi alleno e tutti i giorni Poi il mister decide che sono sempre disperto nella squadra E' bene